ciao ragazzi ciao ragazze oggi facciamo video assaggi praticamente allora ho un assaggio salato e due dolci cominciamo col salato eccolo qua allora snack e vai praticamente è armareggio il parmigiano reggiano e taralli grampavesi che io non ne ho mai visto questa merenda però manca il succo di frutta ci facciamo abbassare l'acqua qui c'è il cameraman che vuole mangiare anche lui grazie questo è il grana parmareggio buono adesso proviamo questi qua i tarallini non può vedere neanche la confezione tarallini piccolini il cameraman e io acqua martina acqua martina prima no buono buono per portare a scuola l'ho pagato adesso la confezione 95 centesimi voto 0 perchè voto 0 non è voto 0 è voto tra 7 e 8 troppo perchè manca il manca succo eh questi questi furbacchioni manca proprio succo poi spacchetteremo il calendario dell'avvento ehm il calendario dell'avvento ora che il calendario dell'avvento l'uovo di pasqua ragazzi eh le uova di pasqua ho intenzione di prenderne tante i tarallini sono un po' duretti no sono buoni guarda 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 poi abbiamo da mangiare cosa mangiamo prima questo questo caramelle caramelle normali caramelle gelè alla frutta con succo di frutta senza coloranti e senza glutine della conad della conad non mi ricordo quando le avevate quanto costavano due due euro stai sicuro non è che diciamo scimate 1,99 ah c'è scritto anche guarda fragola 1,99 allora non è 2 euro 1,99 io lo voglio assaggiare io lo sto assaggiando alla ciliegia io alla fragola non ho sentito nessun odore dentro buono vuoto 10 io ho ancora il tarallo dentro nella bocca allora peccato che sono poche sono ogili buone pensavo che fossero dolci 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 non è che no vanno bene sarebbero ancora due scusate perché poi la mamma fa la rota al maier si le nascondo altrimenti volevo fare un video sulle caramelle degli anni 80 voglio vedere proprio come va con le caramelle degli anni 80 per esempio le morosita le gas non so le rossana le rossana le morosita le golia non so poi devo guardare un po' perché tante non ci sono più eh che peccato le gelatine le galatine wow buono buono intanto il mio telefono che continua a fare lo scemo perché arrivano i messaggi adesso c'è una chicca una chicca Ferrero Roj Pernero Roj Pernero Roj il contrario la influencer Pernero Roj bianco sponsorizzazione ma che sponsorizzazione ma dove sponsorizzazione alla nocciola eccolo qua che anche incartato bene una carta oro vips vips pagato 2 euro c'è anche 2,10 euro praticamente c'è anche nero cioè cioccolato quello nero al latte noi però l'abbiamo preso è fatto con le nocciole sì è fatto con nocciole sì come il Pernero Roj è normale e vellana e vela guarda Bruno che vuol dire nocciola in non so in che lingua capito? cioccolato blanco con rallero de avelines e triciolones de aveliane è fatto così è fatto così cioccolato ripieno tavoletta ricoperta di cioccolato bianco 60% è fatto con il pino di nocciola e sky di cioccolato ingredienti zucchero latte schremato ma che buono buono grazie buono 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 è anche bello morbido voto 9 poi abbiamo questo da assaggiare l'acqua da bere per togliere tutte le ecco tutti i sapori mmm c'è questa cosa qui con il gonfiamento mmm questi non sanno tanto di cioccolatino del Pernero Roj no ragazzi veramente buonissimo mmm no te ne rompo un altro peccetino poi dopo lo nascondo perché anche domani lo vuoi mangiare grazie troppo buono troppo vuoi mangiarlo tutto mmm anche perché mangiato tutto quante calorie sono? mmm 2.538 calorie vabbè io sono magro a basso il giorno mmm 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 mi ha fatto appena ho fatto appena bolliscimi mi sono nello conto che fanno per dato che sono madre mhm ho fatto appena bolliscimi della mamma bolliscimi ho capito bolliscimi nel caso che le robe siano finite non ne abbiamo più però è finito adesso nascondo tutto prima che spariscano tutte e se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella ciao ciao alla prossima dai mettimolo bene come sei parte dai ci no no